Allarme e terrorismo. Dopo l'attentato al mercatino di Natale di Berlino, anche a Pesa saranno rafforzate le misure di sicurezza. A cominciare dalle piazze e dalle vie che portano alla Piazza dei Miracoli, dove saranno installati pilastri, mobili uffissi, in grado comunque di garantire l'accesso ai mezzi di pulizia e di soccorso, alle navetti e ai mezzi di raccolta rifiuti. Lo ha stabilito il Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, convocato dal Prefetto Attilio Visconti. La soluzione richiederà tempi piuttosto lunghi, per questo, nell'immediato, precisa la Prefettura, si procederà all'installazione di blocchi di cemento messi a disposizione dalla Pisamo, la municipalizzata che si occupa di mobilità urbana. Nella consapevolezza che tali manufatti impattano negativamente su un'area di grande pregio architettonico, saranno valutate tempestivamente altre soluzioni provvisorie di minore impatto estetico, in grado comunque di garantire la sicurezza dei cittadini e di quanti vogliono fruire delle bellezze di uno dei siti più importanti a livello mondiale.